Ci sono diversi segnali che ti fanno capire se una ragazza è interessata in chat su Instagram ed in questo video ti mostro i 15 più importanti. Se ancora non mi conosci, io sono RD e sono un formatore e consulente della seduzione, presente sul web corrimorchiadonne.com dal 2008. E la mia missione di vita è aiutare gli uomini a saperci fare di più con le donne. Ma adesso vediamo i segnali più importanti per capire se una ragazza è interessata in chat. 1. Risponde ai tuoi messaggi. 2. Ti cerca e ti scrive anche lei per prima. 3. Contribuisce a tenere viva la conversazione. 4. Ti parla della sua vita. 5. Ti fa delle domande sulla tua vita. 6. Mette like ai tuoi post. 7. Commenta i tuoi post. 8. Visualizza le tue storie. 9. Commenta le tue storie. 10. Ti fa un complimento. 11. Ride alle tue battute. 12. Si mostra scherzosa e cerca di sfidarti. 13. Ti chiede se hai la ragazza. 14. Riprende la conversazione quando tu smetti di scriverle. 15. Se si parla di qualcosa che ti piace, lei dice che piace anche a lei 15. O che avrebbe bisogno che qualcuno glielo spiegasse. 15. Per fare in modo che una ragazza si interessa a te su Instagram, devi rendere il tuo profilo attraente. 16. Devi curare la tua biografia in un certo modo, perché è la prima cosa che una ragazza va a vedere appena atterra sul tuo profilo. 16. L'immagine del profilo non è zoomabile. 17. Deve rispettare determinate caratteristiche in modo da metterti in risalto e da renderti subito riconoscibile. 17. Poi ovviamente anche le foto che pubblichi sul tuo feed Instagram giocano un ruolo fondamentale. 18. Devono essere belle da vedere e soprattutto attraenti in modo da comunicare la tua personalità. 19. Senza tralasciare le storie che condividi, strutturandole in modo da farti seguire dalle ragazze che ti interessano. 20. E dulcis in fundo applicare la tecnica corretta per approcciare ragazze in chat. 20. Quali ragazze approcciare e a seconda del tipo di ragazza che approcci, scrivere un messaggio personalizzato per fare in modo che ti risponda. 21. E seguire una strategia che ti permette di mantenere accesa la conversazione per arrivare all'incontro dal vivo. 22. Ho preparato per te un report totalmente gratuito dove ti mostro tutte queste strategie. 22. Ti basterà cliccare il link che vedi qui sotto in descrizione se stai guardando questo video su YouTube o sopra, nell'abbio, se lo stai guardando su Instagram o Facebook. 23. Se ti è piaciuto questo video, metti like, iscriviti al mio canale e attiva le notifiche per non perderti i prossimi video dedicati al mondo della seduzione. 24. Rasalo della seduzione 24. Raff pied gri Wam communicateciché 25. Raffineri 25. Raffineri 27. Raffineri 26. Raffineri